Depositate le motivazioni della sentenza d'appello sull'alluvione del 2009 che provocò 37 morti, una sentenza che ha ribadito la condanna di primo grado scaglionando i due ex sindaci Giuseppe Buzanca e Mario Briguglio. Ed è proprio nelle motivazioni che si legge come gli accertamenti sugli orari in cui i sindaci venivano avvertiti circa quando stava accadendo nelle zone di territorio colpite dal disastro, escludono che si potessero intervenire ordinando l'allertamento e l'evacuazione della popolazione. Nelle 154 pagine le motivazioni la Corte d'Appello spiega il perché della soluzione arrivata lo scorso 19 luglio. In particolare il Collegio scrive che non pare possa debitarsi ai sindaci di non aver dato attuazione per l'emergenza i piani di protezione civile in vigore nei due comuni che in realtà nulla prevedono per simili fenomeni che comunque si palesavano come del tutto generici rispetto alla pianificazione delle attività operative conseguenti ognuna delle fasi di allerta previste. La Corte d'Appello sottolinea inoltre come i sindaci apprendevano dei fatti che stavano accadendo quando erano già in corso, le colate detritiche o addirittura quando la tragedia si era già consumata. Hanno già annunciato intanto che ricorreranno in Cassazione gli avvocati dei familiari delle vittime, parti civili nel processo ai quali sono state repocate anche le statuizioni civili.